Ciao a tutti ragazzi bentornati Continuiamo Andiamo a fare Subito Mi sento anche perdere troppo Molto bene Monster tea party Benissimo C'è un po' di più There's supply ran out a year ago Every so often some shows up in the market selling for outrageous prices and gone before you can turn your head Silla somehow always had a steady supply though Maybe it was from here now. This is some serious hipster bullshit going key in the post apocalypse Let's go, let's go Qualcuno che sta ansimando E la cassa qua E qua Però mi dicono i guardi di qua No Ma direi che le lascio lì guardate Tanto di nemici ecco tipo Adesso vediamo quanto lo vogliamo E quale odio PEZZ AAH E' una sensazione che tutto dovesse andare per il meglio SONNA BITCH E' uno E' una sensazione che gli havi E' uno E' uno A' uno E' uno Anche sta cazzo di pallina Prendi No Immaginavo Forza di Schivare Non l'ho capito Ballerine volanti Avete rotto le Palle Anche sta cazzo di Sirse Amore Anche sta cazzo di Amore Adio Amore Adio Adio Tu muore, serio? Brutta cosa! Proprio, proprio brutto! E' morto, grazie! Ma perché eri... Caracca, poi! Il caos che si crea! Andando avanti! Ehm... Ehm... Lo faccio fuori di questo che è quello più incazzoso! Che cazzoso, muori! Ehm... Ehm... Er... L'uomo delle ballerine dei volanti! Che c'è chiudere? Carmi c'è chiudere Sì, che c'è chiudere ah 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 No, 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 no No, 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 no Mamma mia ragazzi What's the answer? Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Che cosa sia successo? Seconda chance Ah ok Loro perdo anche i soldi No Si me ne sono reso conto Solo adesso che perdevo tutti i soldi Eh beh questo non l'avevo visto Oh matami Ballerine volanti Gambizziamo Gambizziamo Tartella Tanta pazienza Arrivare a fare un po' di soldi Di Kamiko No lo so Di Kamiko Un soldi Un soldi Un soldi Vabbè Un soldi 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 Oh porca vacca Allora questo è un vulnerabile elettricità Elettricità Allora 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 I problemi a e che a volte io Disfioro e e porca vacca il colpo non entra loro solo che mi sfiorano mi beccano guarda che ovviamente mi fa incazzare mi credo che ancora si fa incazzare e crudo per la vista non ho mai pensavo di rincazzare la crudo con la crudo è una idea bellissima e anche quando sei un monstro sei, cosa c'è nel medio di quei crati? però santo dejaré qui sta mi bella vuoi cantare fuori dai cadi cavalli ah si non ho dato neanche il potere ma non credo che ce ne forse ha bisogno va bene se piace a lui il must non ce lo offre salve ok i have good news and i have bad news give me the bad news first a tea fields have been ravaged the workers have fled or been killed the storehouse is empty and all the tea we found was corrupted with crude what's the good news the good news is that what i just said is gonna totally bum you out i guess that's only good news to me though i hate you oh buddy i hate you too i hate you too i hate you too oh no way thank you for coming i've had the most distressing news did your hamster get eaten by your bunnies this situation is dire will you help or not that depends on what you're paying it's always about the money with you isn't it no sometimes it's about sex and sometimes it's about sexy money will you shut up there was a man here he took photos of amyona while she was bathing bathing huh scandalous you cannot allow these photos to get out her reputation is already slutty enough enough to ok ok fine but i expect to be paid entirely in sexy money none of that ben franklin stuff guy looks like a potato in a wig please just hurry ah eccolo questo è la pistola che cerchiamo benissimo andiamo ragazzi ci vediamo comunque nella prossima puntata con un'altra missione da parte 1 che penso che sia questa che alla fine dopo ci da un'arma gialla che è molto buona dovrebbe essere va bene ciao a tutti alla prossima